Le smart grid è il problema della trasmissione, ci può dire a che punto siamo e come dobbiamo continuare a evolverci in questo settore? Oggi è stata fatta un'ampia discussione, le smart grid sono ahimè fondamentalmente viste dal punto di vista dei clienti finali e delle reti di distribuzione. Pochissimi trattano delle smart transmission grid, come possiamo utilizzare meglio le reti di trasmissione che sono oggi detta in inglese il bottleneck, il collo di bottiglia di tutto il passaggio della generazione attraverso la trasmissione. Sapete che in Italia e in Europa il tempo medio per realizzare una linea, da quando uno pensa di realizzarla a quando la mette in servizio, è più di 12-13 anni. Trascurando i casi che non viene mai realizzata. Ci sono voluti 25 anni prima di cominciare a mettere la gara per la linea di interconnessione tra la Francia e la Spagna. In Italia una delle ultime linee a 400 kg al 18 anni da quando è iniziata la costruzione a quando è entrata in servizio. Per cui, a parte che secondo me nel concetto di smart grid non deve entrare solo l'information and communication technology, ma anche le strutture, le linee, le sottostazioni, il volgare rame, alluminio e ferro senza il quale anche l'information and communication technology non può far passare gli elettroni. Però, tenendo conto di questi colli di bottiglia, risulterebbe importante l'applicazione dei concetti di smart grid alle reti di trasmissione per riuscire a portare più potenza a utilizzare meglio quello che abbiamo. Faccio un esempio. Le linee di trasmissione hanno due limiti per la corrente, quindi la potenza che passa, fissati con un valore per sei mesi d'inverno e per un valore con sei mesi d'estate. Valori che sono basati sull'inverno più caldo che abbia mai avuto nell'ultimo secolo e sulla estate più calda per fare in modo che la freccia, perché con la temperatura i conduttori delle linee si abbassano, mantengano le distanze di sicurezza. Bene, io ho provato a verificare su molte linee. In alcuni anni si è molto lontano per tutte le ore dell'anno da questi valori. Per cui se uno potesse registrare le condizioni ambientali, la temperatura del conduttore e queste frecce, potrebbe portare molta più potenza nelle linee che abbiamo e quindi utilizzarle al meglio ed evitare questi problemi di colli di bottiglia. La stessa cosa capita per le grosse stazioni dove ci sono dei trasformatori, anche questi in funzione della temperatura esterna, eccetera. Se uno potesse misurare qual è la temperatura del punto caldo dentro il trasformatore rispetto alla temperatura esterna, eccetera, potrebbe utilizzarli molto meglio. Quindi, secondo me, bisognerebbe portare i discorsi non solo su delle cose abbastanza lontane e ideologiche che sono fondamentalmente basate e che hanno una certa importanza l'utilizzo delle rinnovabili, ma anche, e potremmo farlo subito, sui sistemi di trasmissione. Grazie!